In questo video ti mostro le tre migliori mascherine in vendita su Amazon. Ti ricordo che qui sotto al video in descrizione, trovi i link diretti ad Amazon. Se ti fa piacere, ovviamente lascia un mi piace ed iscriviti al canale Prezzo e Recensioni. Numero 1. 3M Respiratore Monouso. Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria, con conseguente miglioramento di confort e facilità di respirazione. Design innovativo a tre lembi, adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato. Lembo nasale sagomato, design ricurvo e basso, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi, garantisce una buona visibilità e ottimizza la compatibilità con gli occhiali. Per acquistarlo trovi il link in descrizione del video. Andrea scrive. La 3M produce sempre prodotti al top. La descrizione corrisponde al vero. Tutto perfetto compresa consegna. Numero 2. Al secondo posto troviamo la maschera antipolvere con carbone attivo. Filtro extra. I filtri al carbone attivo isolano il 95% di polvere, sostanze chimiche, fumi e particolato. Questo tipo di maschera antipolvere può isolare la grande quantità di polvere, combattendo la foschia del tempo e aiuta a respirare in modo sano. Design della maschera confortevole. La parte anteriore regolabile e l'innovativo design del gancio per l'orecchio si adattano perfettamente al viso e impediscono all'aria di entrare lateralmente. Una maschera protettiva dal design ergonomico protegge la bocca. La maschera non cadrà facilmente. Comodità e aderenza totale. Il nasello in gomma regolabile e il design innovativo Irlop, studiati per aderire perfettamente al viso, evitano che l'aria esca lateralmente. La maschera protettiva garantisce confort ed ergonomia sulla bocca. Multifunzionalità. Protettiva sia per training estremi che per particelle e dello smog delle città. Comoda anche se utilizzata con casco e occhiali mentre vai a lavoro in motorino. Perfetta per tutte le stagioni e ottima anche per chi è allergico ai pollini. Rocco scrive. Ottima alternativa alle mascherine classiche che usi e getti. Buona fattura. Comoda da indossare. Come al solito, trovi il link in descrizione al video. Numero 3. Al terzo posto troviamo mascherine comfort, mascherine antipolvere, filtro carboni attivi. Maschera a gasso per la salute, filtro a carbone attivo intercambiabile a 5 strati per rimuovere polvere, fumo, polline, vapore, prodotti chimici, ecc. Questa maschera antipolvere vi aiuterà a respirare in modo più pulito e sano. Confortevole maschera antipolvere, maschera antipolvere con valvola di aspirazione e doppio sistema di filtraggio per ridurre la resistenza respiratoria e buona distribuzione del peso, corpo luminoso con visione completa per un lavoro piacevole e senza fatica. Design antipolvere regolabile della maschera, maschera antisporco con clip naso regolabile, design a orecchie e chiusura in velcro rimovibile. Aiuta a sigillare efficacemente e previene l'appannamento. Impedisce lo scivolamento della maschera. I passanti per le orecchie sono facili da regolare, in modo che la maschera si adatti perfettamente al naso e alla bocca. Anche qui, trovi il link sotto al video per acquistarlo. E tu, quale comprerai? Fammelo sapere sotto al video con un commento. Lo staff di Prezzo e Recensioni ti ringrazia per la visione.